Nonostante l'adesione non sia ancora stata completamente finalizzata, la Svezia si sta preparando a inviare circa mille soldati per partecipare alle esercitazioni militari della NATO nel nord Europa. Le forze militari svedesi faranno parte della prima linea di difesa contro una potenziale invasione russa. Questa forza si unirà a un'altra unità danese guidata dal che costituirà la prima linea di difesa dei paesi baltici. Per ospitare i due contingenti è stato costruito in Lettonia un campo con una capacità di 1200 soldati. Dopo essere rimasta neutrale per decenni la Svezia sta ora operando attivamente nel quadro dell'alleanza. Nel frattempo i marini statunitensi si stanno addestrando per le manovre militari nelle terre ghiacciate della Norvegia. Le esercitazioni fanno parte dell'operazione Steadfast Defender della NATO, la più grande esercitazione militare dell'alleanza dei tempi della guerra fredda. Grazie a tutti. Grazie.